Nella giornata di ieri, durante i servizi coordinati per garantire la sicurezza di queste festività natalizie, i militari del nucleo operativo di Sapri hanno effettuato una perquisizione a casa del sorvegliato speciale Trottavito, classe 85, arrestato appena due settimane fa dalla stazione di Sapri con l'accusa di resistenza e ricettazione. Durante l'operazione, questa volta, è stato rinvenuto un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente destinata alla vendita al dettaglio. La droga era nascosta in buste di celofan all'interno dei condotti di areazione della cucina. Grazie al minuzioso controllo dei militari, si è scoperto l'astuto nascondiglio e sequestrata la sostanza. In totale sono state recuperate 170 grammi di hashish, suddivisa in ovuli da 9 grammi. Per trasportare le dosi veniva utilizzato l'involucro giallo delle sorprese degli ovetti di cioccolato. È stato ritrovato anche un bilancino di precisione e un coltello intriso della sostanza illegale. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio e ristretto presso la casa circondariale di Potenza. La droga, di ottima qualità, era già stata in parte smerciata alimentando il mercato illegale delle feste.